Musica Botteghiamo il regalo d'autore. Quando si parla di commercio forse molto spesso si allarga ad un discorso prevalentemente industriale. Qui oggi sono presenti le piccole e le medie aziende, quindi anche i prodotti cosiddetti di nicchia. Sì, è il dorsale dell'industria italiana, le piccole e medie aziende. E la qualità però manuale. Quindi si parla sì di qualità, noi abbiamo un'industria che fa prodotti di ottima qualità. L'artigiano fa dei prodotti di qualità mettendoci la mano, anche l'amore direi. E quindi rappresenta al meglio il brand di quest'Italia che noi come Camera di Commercio italiana per l'estero cerchiamo di rappresentare nel nostro territorio. Ecco, l'ossatura, lei lo ha ben detto, diciamo della piccola e media imprese italiana che regge proprio il sistema nostro commerciale. E' anche spesso fatta di aziende che si tramandano il nome di padre in figlio. Sì, e questo è il bello di questa tradizione. È il bello direi del brand Italia, torno a ripetere. E vedo che anche nel resto del mondo c'è questa ricerca. Forse siamo un po' troppo pieni di brand internazionali. Stiamo cercando qualcosa che ci rassicura che noi esistiamo. Quindi ci ritorniamo alle nostre tradizioni. È molto bello. Dal momento che queste interviste vanno in onda, in coda d'anno, coda d'anno 2016, guardando naturalmente al 2017 e quindi guardando al futuro. Abbiamo chiesto all'ambasciatore di farci i suoi personali auguri. Lo chiediamo anche a lei. Un augurio però per quello che riguarda proprio la nostra meravigliosa impresa italiana. Che cosa ci auguriamo per il 2017? Ci auguriamo e mi auguro che si sappia sfruttare quello che esiste già. Io ho ormai una certa età, signora. Non ho mai visto, non ho mai assistito a un momento così straordinariamente interessante e bello per le nostre imprese. Occorre avere un po' di coraggio e utilizzarlo. Noi abbiamo una qualità e una riconoscibilità all'estero che raramente è raggiungibile ad altre nazioni. Dobbiamo semplicemente utilizzarlo. L'augurio per il 2017 è che riusciamo a farlo.